Nuovo comandante per il comprensorio militare di Persano. Ieri la cerimonia di avvicendamento al comando del IV Reggimento Carri tra il colonnello Diego Antonio Giarrizzo e il subentrante colonnello Carmine Vinci. Presenti all'evento numerose autorità civili e militari. Per me è un tornare a casa, sono stato qui da giovane capitano dal 2002 al 2008 è un onore essere stato disegnato come nuovo comandante del IV Carri è veramente un tornare in famiglia, per cui sono orgoglioso, sono contento e sono sicuro che il IV Carri andrà sempre meglio, sarà sempre più impegnato e sarà in linea con quelle che sono le aspettative della Brigata e dello Stato Maggiore dell'Esercito. È un reggimento questo che è un po' un fiore all'occhiello dell'Esercito italiano lo diceva anche il generale, prima il generale Bagnara. L'output operativo di un reggimento Carri si misura nell'efficienza dei suoi mezzi e dei suoi carri armati come testimoniato anche dal generale comandante è stato fatto un grosso sforzo grazie all'opera del colonnello Giarrizzo e all'opera di tutti i carristi del IV Carro per arrivare il livello di efficienza dei nostri carri per cui il reggimento è a un livello di efficienza altissimo e è pronto a implementare le sue attività addestrative e ad approntarsi per i futuri impieghi. Gli obiettivi sono quelli di fare tanto addestramento di specialità e di prepararsi anche contestualmente a eventuali futuri impieghi sia in operazioni nazionali che fuori dal territorio nazionale. Ciò comunque non tralasciando quello che è il benessere del personale perché il reggimento Carri è una grande famiglia perché nel caro armato si sta in quattro l'equipaggio è composto da quattro persone e tutti sanno tutto di tutti solo così si riescono a raggiungere i migliori risultati.